salve a tutti e bentornati su una guida per le mappe per world of tanks e oggi abbiamo la mappa provincia da analizzare è da un po che non faccio queste mappe principalmente per ragioni legate al mio tempo che devo usare per cose dell'università e anche per il fatto che ultimamente non sono molto d'accordo con come la world gaming sta mandando avanti il gioco e per questo ho anche smesso un po di giocare non gioco più così tanto non faccio nemmeno più streaming così tanto per world of tanks detto questo voi mi avete chiesto di continuare a fare queste mappe queste analisi per le mappe sia su youtube sia sui forum anche su facebook alcuni mi avete scritto e quindi eccomi qua sono tornato finalmente ho un po di tempo da sacrificare per una analisi di una mappa e avendo fatto una partita decente su questa mappa e dopo vedremo ho deciso di cominciare con la nuova mappa provincia questa è una mappa che esisteva già prima che poi hanno tolto hanno rifatto e adesso hanno reintrodotto e come dire secondo me questa è una delle mappe peggiori che loro abbiano mai reintrodotto su world of tanks forse in ogni caso mi sa che anche la prima che hanno reintrodotto però comunque sia è una in mio parere delle mappe peggiori che ci siano nel gioco in questo momento perché dico questo allora il grosso problema di questa mappa è che è una mappa a corridoio e principalmente sono i corridoi sono due questo qui a destra così e questo qui a sinistra così questa parte centrale è praticamente inutilizzabile capare fare un cap rush è impossibile e praticamente la partita si vince conquistando una parte scendendo e arrivando all'altra parte se il resto della vostra squadra poi ha riuscito a mantenere la posizione dall'altra parte della mappa se poi una squadra vince da una parte l'altra squadra vince dall'altra allora è tutto un pariente camperi e vince chi campera di più in ogni caso facciamo un'analisi da mappa e vi spiegherò anche come secondo me si vince su questa mappa che posizioni prendere voglio dire prima di cominciare che queste sono le posizioni che prenderei io che io ho visto che funzionano per me e voglio anche dire io non ho fatto tantissime partite su questa mappa dato che il matchmaker e le mappe che vengono ultimamente fanno veramente schifo e mi vengono sempre le stesse mappe io non so world gaming che cosa ha fatto al matchmaker però a me le mappe vengono sempre le stesse quindi questa mappa qui mi viene una volta una volta ogni 50 75 forse e quindi niente non ci ho fatto tantissime battaglie però vi posso vedere cosa io ho visto che ha funzionato per me allora cominciamo con l'artiglieria per l'artiglieria è molto semplice vi piazzate o in k2 o in a9 a b9 e sparate praticamente ovunque volete da b9 potete sparare qua sotto e anche dall'altra parte qua giù l'unico problema sono quando i cari si vedono proprio accanto alle case dall'altra parte che non riuscite a colpirli ovviamente però per il resto l'artiglieria qua praticamente distrugge di tutto e può sparare ovunque e la stessa cosa da k2 da k2 potete colpire tutta la parte sinistra e anche la parte destra in realtà questa montagna non vi blocca tantissimo e se anche vi bloccasse vi potete sempre mettere in k1 j1 e sparare qua se proprio c'è il bisogno allora passiamo ai td anche per i td non ci sono tantissime posizioni anche perché la mappa è abbastanza aperta è facile essere spottati e se si viene spottati vi sparano dall'altra parte allora quello che io ho visto è che la gente normalmente si in queste posizioni qua che vedete scritte sulla mappa e poi aspettano che qualcuno venga spottato all'altra parte per sparargli si possono fare partite fantastiche così però diciamo che non è molto interessante come gameplay allora io consiglio se avete un td molto ben curazzato tipo un t 110 e 3 t 110 e 4 di andare un po avanti anche con i pesanti dopo vedremo le posizioni per i pesanti se però il vostro td non è ben curazzato allora vi tocca rimanere indietro in queste posizioni qua allora queste due posizioni qui riescono benissimo a colpire tutte queste tutta quest'area qua praticamente e queste posizioni qua riescono a colpire benissimo tutta quest'area qua quindi se venite spottati o siete morti o vi prendete i danni o sennò dovete andarvene indietro in copertura subito perché ogni itd o l'attiglieria vi sparerà sicuramente per difendervi da un push che viene da qua giù o da qua giù per un push che viene da qua giù da d8 potete colpire benissimo vedete che c'è una linea dove potete colpire e in ogni caso qui siete abbastanza coperti da tutti i td che stanno qua l'unica cosa è che l'attiglieria vi può sparare se c'è l'attiglieria vi basta rientrare in questa posizione qua e praticamente i cari nemici devono fermarsi qua perché sennò si beccano si beccano i colpi tutti i td che stanno qua dentro e io sono stato in questa posizione qui con i miei cari caro medio e c'era un yak panzer qua e nessuno voleva passare avanti e quello che è successo è che noi tutti i fermi qua l'attiglieria ci ha fatto pezzi ok perché l'attiglieria sta qua non viene spottata anche se spara perché ci sono 200 cespugli e quindi chiunque sta qua viene completamente distrutto dall'attiglieria e la stessa cosa funziona con questa posizione qua quindi td corazzato vi consiglio di andare un po con i pesanti td non corazzato vi tocca camperare non è una buona mappa per un td non corazzato sinceramente però se avete una camo buona state abbastanza tranquilli passiamo ai leggeri che secondo me i leggeri su questa mappa si divertono di più dei td allora per i leggeri ci sono tre posizioni principali che io tendo a prendere allora la prima sono queste collinette qua sopra ok se io vengo da base 1 prima cosa faccio scendo salgo più velocemente possibile e mi metto qui in c2 e la stessa cosa se vengo se parto dalla base 1 dalla base verde scendo salgo il più velocemente possibile e mi metto in j9 da queste due posizioni praticamente si riesce a spottare tutta questa parte qua tutta questa parte qua per i td e una volta spottate tutto fate una miriade di danni di assistenza un'altra posizione che altre posizioni potete prendere è questa qua in e8 e in f3 da queste posizioni potete proxy spotare tutti i pesanti e td che stanno qua giù o qua giù ovviamente per le vostre atelierie e i vostri td e un'altra posizione che potete prendere è qua sotto a questa posizione io non raccomando all'inizio perché verrete sicuramente spottati dato che ci sono i medi e i leggeri che passano da di qua e se voi scendete qua giù venite sicuramente spottati e c'è c'è un masso c'è della c'è un po di copertura però l'atelieria vi farà vi farà secchi se andate laggiù e soprattutto i td che stanno qua sanno che voi siete un problema per loro e staranno molto attenti a farvi fuori il pieno possibile e la stessa cosa per questa posizione qui e passiamo adesso ai medi allora i medi praticamente hanno le stesse posizioni dei leggeri allora le collinette qui le collinette qui appunto per spottare i medi un po più lenti ma con buona depressione si possono mettere in j8 e in c3 perché qui praticamente potete spuntare di torretta e colpire i pesanti che fanno skyscraping qua e ovviamente la stessa cosa qua giù e ovviamente in questo modo potete anche spottare per le vostre atelierie i vostri td e così via un'altra posizione potete prendere specialmente all'inizio è questa qui e questa qui a queste posizioni veramente vi garantiscono alcuni colpi su chiunque salga di qua da questa posizione potete facilmente colpire chiunque sale qua e viceversa da qua giù a qua ok basta che ci sia qualcuno che spotta quindi se c'è un leggero che faiolo qui che faiolo qua giù o qua giù spotta tutti e voi potete mettere qualche colpo dentro di nuovo questa posizione non è male anche con i medi il problema di queste due posizioni ve lo dico anche con i leggeri è che se i nemici spingono dall'altra parte vi possono colpire quindi fate attenzione se i nemici stanno diciamo dietro questa linea e questa linea state abbastanza tranquilli ma se spingono dovete ritirarvi perché sennò vi colpiranno da dietro e adesso passiamo ai pesanti allora i pesanti di nuovo non hanno tantissime posizioni a prendere con i pesanti più veloci ma tanto veloci tipo vz 1 1 1 5 adesso l'object 277 potreste andare dall'altra parte e mettervi in queste posizioni qua però dovete stare attenti perché quando passate di qua se venite spottati i td che camperano vi possono colpire e la stessa cosa i medi che stanno qua una volta che salite vi possono colpire le posizioni più diciamo safe sono queste qua che ho evidenziato allora questa qui è una buona posizione da prendere se non c'è la tiglieria se c'è la tiglieria questa posizione dimenticatela non prendetela potete mettervi da quest'altra parte ma non so basta che ci sia qualcuno qua giù o qua giù basta che i nemici spingano qua giù e voi venite colpito voi verrete colpiti questa posizione è più sicura e potete colpire chiunque passi di qua praticamente chiunque voglia spingere e questa posizione pure con l'artiglieria non la consiglio però da qua potete anche sparare ai td che camperano dipende se stanno nella vostra area di visione insomma però questa posizione qua prendete vi garantisce anche la possibilità di sbuccare qua giù e colpire chiunque sia qua sopra però è abbastanza raro potete fare qualcosa di decente da qua a qui sono i pesanti questa è la posizione che io prenderei come ultimo last hand diciamo prendete quando i nemici pushano voi vi mettete qua siete a posto dall'artiglieri nemica siete a posto dai td e dovete solo preoccuparvi dei pesanti e medi che stanno pushando queste due posizioni pure allora questa quella più sicura è quella che prenderei io con un pesante se dovessi difendere questa parte qua questa posizione è buona se non c'è attiglieria in campo cosa che è molto rara oggigiorno ma se c'è io questa non la prenderei mai di protezione perché l'artiglieria mi colpirebbe ogni due secondi va bene ragazzi queste erano praticamente le posizioni che io prendo su questa mappa e adesso andremo a vedere una battaglia che ho fatto nel mio t100 lt ed ecco qua che comincia la partita ragazzi e prima cosa che facciamo andiamo subito dall'altra parte ma passiamo in un leggero siamo molto veloci e quindi voglio subito andare in j8 sulla collinetta come vedremo sperando di poter spottare buona parte della loro squadra cosa che nuovamente funziona su su questa mappa vedremo adesso come funzionerà in questa partita vediamo subito c'è uno standard b lì in mezzo non so esattamente cosa stia facendo però probabilmente salirà poi in b 3 dopo eccoci qua in posizione allora vediamo che cade un albero ed ecco qua abbiamo un object 263 che è assolutamente all'aperto e potete vedere adesso che cosa succede a chi sta all'aperto in questa mappa allora io voglio continuare a spottarlo dato che mi sta dando tantissimi punti e beh diciamo che in questo momento l'object non si sente bene ecco qua che è morto abbiamo anche un mouse chain che stiamo spottando e vediamo se riusciamo a spottarlo di nuovo vediamo subito che là c'è un jack tiger possiamo sparare un colpo però non penetriamo il bersaglio tracchiamo e basta non veniamo spottati o forse eravamo spottati tutto il tempo chi lo sa e vediamo che c'è un m46 patton che sta qui cosa che mi sorprende dato che io con con un patton sarei andato dall'altra parte della mappa ogni caso abbiamo spottato il patton e abbiamo fatto 600 di spotting ecco qua il moist chain chiedo l'aiuto dell'artiglieria contro il moist chain il patton sta lì all'aperto colpo facile per me e quindi glielo metto dentro adesso ci mettiamo dietro alla casa in modo che l'artiglieria non possa farci male il jack tiger pure lo avevamo spottato e ci dà 1500 di spotting ecco qua il moist chain pure sta non sta messo bene e niente noi qua in questo momento lo stiamo spottando e basta adesso proviamo a uccidere il moist chain ma il nostro colpo rimbalza ok siamo spottati mettiamoci in copertura e adesso adesso bisogna pensare un attimo io so che rimanendo qua non spotterò più niente allora io posso fare due cose o torno indietro e mi vado dall'altra parte o vado un po' avanti qua e io decido di andare un po' avanti qua so che c'è un yak panzer là dietro però io con la mia camo dovrei stare a posto spottiamo il yak panzer vedo che non sono spottato e quindi lo tengo live in vista per l'artiglieria però l'artiglieria ha appena sparato quindi non credo che spara un altro colpo molto presto vedo che il t54 e1 sta andando avanti e io voglio seguirlo ecco qua l'artiglieria che spara gli ak panzer in ogni caso e fa 200 hp di danno rimbalziamo il nostro colpo sul buzzata e come vedete è facile colpire chiunque sia dall'altra parte dato che il nostro raggio visivo ovviamente copre tutta la mappa la mappa l'hanno ingrandita ma in realtà non è poi così grande ecco qua un leggero e lo standard B mettiamo dentro un colpo e probabilmente l'RU proxy spot là infatti e quindi io devo stare attento adesso so che c'è lo standard B che probabilmente vuole mettermi un colpo dentro però non glielo lascerò perché allora io quello che voglio fare qua è trovare un altro angolo sullo standard B l'RU riesco a prendere un po' di spotting anche da lui e cerchiamo di mettere a segno qualche colpo sui pesanti all'altra parte adesso i leggeri in generale gli EO10 non hanno tantissima penetrazione quindi sparare da questa distanza non farò mai tanto danno infatti per il momento abbiamo fatto 600 di danno forse abbiamo messo a segno qualche colpo blind ma è improbabile in ogni caso quello che voglio fare io adesso è tornare indietro per sputtare quelli che stanno dalla nostra parte della mappa per i nostri alleati che stanno dalla parte nemica quindi quello che voglio fare io è rimanere sotto vi ricordate la parte con il Jerry che vi avevo detto che è molto rischiosa? ecco io voglio andare là e dico che è molto rischiosa perché appunto ci stanno questi camper come questo Conqueror che riesco a mettere dentro un colpo dentro di lui ed ecco qua che sputtando il Conqueror penso l'Object 263 si è riuscito a mettere dentro un colpo adesso ci sono questi cespugli che si possono usare normalmente però con lo Standard B così vicino vengo proxy sputtato io per questa ragione decido di andare avanti so che c'è lo Standard B che mi sta proxy sputtando e so che c'è il Conqueror là che in questo momento è occupato a uccidere il Centurion e tutti quelli dall'altra parte e io adesso decido di mettere un po' di pressione contro la MX e lo Standard B metto un colpo dentro la MX, rimbalzo un colpo della MX questa è tanta tanta fortuna ecco e non vedo il 13-105 che spunta dietro di me in ogni caso però vedo il VT qua che sembra essere AFK la MX mette due colpi dentro me, io mi metto subito in copertura e decido di uccidere il Waffentagri so che è AFK, i miei compagni lo distruggono e so che lo Standard B è un One Shot e quindi adesso io voglio andare là e uccidere certo se faccio un low roll io sono apparentemente morto però un low roll di questo genere è molto improbabile 171 di vita no, nemmeno un low roll riusciva a salvarlo quello so che ero sputtato quindi aspetto un attimo dietro la casa in caso l'attiglieria stesse mirando contro di me cosa che normalmente succede e vado avanti sperando di poter mettere un colpo dentro il Conqueror o di sputtare l'attiglieria nemica allora andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti voglio vedere l'attiglieria nemica dove sta e qui vedete i 200 cespugli di cui parlavo prima sono tantissimi il Conqueror sembra che abbia cercato di mettere un colpo dentro di me ma dicevo, i cespugli là sono tantissimi non ho la più palla idea del perché abbiamo deciso di mettere così tanti cespugli per far nascondere le artiglierie e che sinceramente non sono necessari assolutamente allora qui aspettiamo che qualcuno mettere dentro un colpo all'attiglieria e noi poi la uccidiamo e questa è la partita ragazzi vediamo le stats ed ecco qui le statistiche della battaglia allora con quasi 10.000 di danno in totale riusciamo a prendere una prima classe per il T100 LT e riusciamo a prendere una patch of duty per aver esportato tanti carry nemici allora come ho detto abbiamo fatto quasi 10.000 danno in totale con 1.780 di danno fatti e 8.112 da spotting e quindi 1.177 di esperienza di base che non è tantissimo alla fine non abbiamo sparato così tante gold quindi un po' di cade abbiamo fatto però abbiamo speso parecchio di consumabili che io uso sul mio T100 LT e per questo i soldi non sono proprio un granché in ogni caso ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto fate un like se non vi è piaciuto fate un dislike se volete dirmi come poter giocare questa mappa come la giocate voi e così via scrivetemelo nei commenti e fatemi sapere nei commenti quale mappa vorreste che io faccia la prossima volta detto questo non so quando il prossimo video quando farò il prossimo video perché in questo momento sto scrivendo la mia tesi per l'università e quindi come potete immaginare il mio tempo a disposizione è abbastanza ridotto in ogni caso ragazzi spero di vedervi presto anche su Twitch sul mio stream e quindi a presto ragazzi grazie 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 grazie